Una giovane sposa in stato interessante fu un giorno ricoverata in un ospedale per un semplice attacco da appendicite. I medici dovettero applicarle del ghiaccio sullo stomaco, sulla pancia e alla fine di questi trattamenti i medici le consigliarono di abortire il bambino. Le dissero che era quella la soluzione migliore perché il bambino sarebbe nato sicuramente con qualche infermità. Ma la giovane coraggiosa sposa decise di non interrompere la gravidanza e il bambino nacque. Quella signora era mia madre e il bambino ero io. Sarò di parte ma credo di poter dire che quella scelta fu una scelta giusta. E spero che questo possa essere di incoraggiamento per tante madri che qualche volta si trovano in momenti difficili, momenti di vita, complicati, ma vogliono salvare la vita dei loro bambini. Allora per salutarci voglio farvi ascoltare una piccola canzone, una piccola vecchia canzone che ai miei bambini è piaciuta molto. Spero piaccia anche a voi. Mi è piaciuta a loro io l'ho perciò incisa nel mio ultimo disco che vi manderò a far ascoltare. La canzone è bella perché è una canzone gioiosa, una canzone che esprime felicità. Dici così. voglio vivere così col sole in fronte e felice canto beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte perché questo incanto non costa niente. Grazie a tutti.